Biglia, buonaventura, che sì e Bacayoko, di fatto l'intero centrocampo titolare sabato pomeriggio non sarà a disposizione di Rino Gattuso. Fiorentina allora favorita sul Milan in questo match di campionato anche alla luce dei due giorni e mezzo in più rispetto ai rossoneri che Pioli ha avuto per preparare la gara? No, almeno a giudicare dal rendimento esterno della Fiorentina, ma si tratta comunque di un'occasione da accogliere anche perché l'allenatore toscano Corriento di Milenkovic e di Missone Veretout avrà invece l'intera rosa a disposizione. Probabilmente giocheranno comunque gli stessi di domenica scorsa con Milenkovic al posto di Ceccherini e il rientrante francese al posto di Norgaard al centrocampo. Modulo? C'è da capire come il Milan rimedierà alle assenze. Gattuso potrebbe scongelare Bertolaccio e addirittura Montolivo optando per il 4-3-3. In tal caso anche Pioli potrebbe tornare al modulo su cui ha sempre puntato di fatto per l'intera stagione, anche se l'accoppiata Piazza Chiesa alle spalle di Simeone nel secondo tempo contro l'Impoli ha funzionato a meraviglia. Arriviamo da dei mesi non facili perché la vittoria non arrivava, arrivavano solo pareggi e la vittoria contro l'Impoli ci dà tanta autostima ma noi sappiamo anche nei momenti di difficoltà quali sono le nostre forze, i nostri peggi e quindi ora ci giochiamo una grande partita a Milano e speriamo di uscirne con un grande risultato. Infine l'arbitro, tutt'altro che un particolare di secondo piano visto quanto continuano a sbagliare quest'anno le ex giacchette nere a San Siro, fischierà Mariani che fin qui ha diretto i viola solo due volte, coincise tra l'altro con altrettanti 3-0 per la Fiorentina. I collaboratori del fischietto di Aprilia saranno Tolfo e Fiorito alla Vara a San Siro, siederà invece il signor Mazzoleni.